E' con molto piacere che ho accettato l'invito a partecipare a questa edizione del forum sulla sicurezza di Varsavia. Rivolgo quindi il mio personale ringraziamento all'organizzazione di questo evento e un caloroso saluto agli altri partecipanti nonché al qualificato uditorio di questa bella ed importante manifestazione. L'argomento del panel che mi accingo di introdurre è secondo me di stringente attualità proprio alla luce dei processi di revisione strategica che coinvolgono Nato ed Unione Europea. E' innegabile infatti che gli accessi più meridionali all'area aeroatlantica abbiano sempre rappresentato snodi strategici essenziali per la sicurezza dell'intera regione. Il fianco su dell'alleanza si conferma a teatro di un arco di crisi che pone alla nostra sicurezza condivise le sfide meno intellegibili e perciò più pericolose. Sono il frutto di dinamiche complesse che travalicano il confronto militare pur e semplice e che risentono di fattori di rischio sistemici che richiedono tempestività di reazione attraverso l'impiego di tutti gli strumenti a disposizione, non solo militari ma anche politici, economici, culturali e sociali. In altre parole l'area del Mediterraneo allargato che coincide largamente con il nostro fronte meridionale conferma la sua strategica importanza di tessuto connettivo tra il nord e il sud del nostro emisfero e la sua centrale rilevanza quale infrastruttura strategica tra l'Oriente e l'Occidente del globo. Per questo credo che la nostra attenzione alle dinamiche del fianco sud sia essenziale per l'Europa, sia per gli evidenti impatti sulla nostra sicurezza individuale e collettiva, sia perché in esso si giocherà una parte rilevante della partita per gli equilibri globali futuri e dobbiamo perciò esserne protagonisti. In questa prospettiva lo scenario di fronte a noi è chiaro. La traiettoria geopolitica regionale a cui assistiamo e le dinamiche emergenti in campo tecnologico, energetico ed economico ci impongono delle scelte a garanzia della nostra sicurezza e molte di queste sono correlate in maniera inequivocabile alla direzione strategica meridionale. Sicuramente i relatori qualificati che prenderanno la parola dopo di me sapranno articolare in maniera più dettagliata l'impatto del quadrante sulla sicurezza euroatlantica. Voglio però offrire alcuni spunti per alimentare un confronto che io mi auguro possiate trovare di grande interesse. Partirei dal ruolo che intendono svolgere e in molti casi stanno già svolgendo i nostri competitor globali. Relativamente alla Russia la presenza militare ormai stabile in Siria e in Libia si accompagna la strategia industriale di Mosca nel settore dei sistemi di armamento con un sempre maggiore attivismo sui mercati della regione. Una modalità di azione che amplifica in maniera significativa l'estensione dell'influenza della federazione nel bacino mediterraneo anche attraverso affiliazioni di lungo termine. Ancora più a meridione, e mi riferisco qui al Sahel, con l'eccezione forse del Niger, sembra ripetersi una tragica instabilità istituzionale e le compagnie private riconducibili alla strategia ibrida di Mosca tentano di sostituirsi a partner internazionali come provider di sicurezza, di formazione e di addestramento, oltre a supportare direttamente le forze di sicurezza locali nell'attività di natura cinetica. La Cina, dal canto suo, prosegue senza sosta un'azione efficace di penetrazione nel bacino mediterraneo, continuando anche in quest'area, quanto già in corso da anni, nei quadranti africani e medio orientali. Un approccio che si concretizza specialmente negli ambiti economici e commerciali, attraverso i quali Pechino persegue i propri obiettivi strategici, ma che non esclude futuri risvolti nella dimensione militare. E la crisi afghana, i cui esiti dovranno essere oggetto di una ulteriore e imprescindibile approfondita lettura, ha il potenziale per dare nuovo vigore, soprattutto in termini motivazionali, alle organizzazioni terroristiche che compongono la galassia sciadista, che in questo quadrante sembrano aver trovato le condizioni migliori per proliferare dopo la sconfitta militare subita nel Levante. Aggiungerei, quale ulteriore stimolo alla nostra riflessione, la necessità di considerare il cambio impostato dalle recenti amministrazioni americane in termini di attenzione prevalente alla regione indopacifica. Un adattamento che risente di una nuova stagione di competizione tra potenze, che pur in presenza di una conferma dell'impegno statunitense nell'area euroatlantica, richiede certamente un maggior impegno dell'Europa anche nel settore della sicurezza e della difesa, che deve appoggiare necessariamente su una chiara volontà politica, accompagnata da un adeguato livello di autonomia strategica e da un conseguente impiego di tutti gli strumenti a nostra disposizione. Su questo punto vorrei essere molto chiaro. La promozione dello sviluppo e dell'acquisizione di capacità militari europee, che l'Italia persegue con convinzione, deve essere interpretata quale naturale e coerente azione di rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, finalizzato a consentire all'Europa di contribuire in maniera sostanziale ed efficace, alla sicurezza e alla stabilità globale. In questo senso va letto il nostro impegno al rafforzamento della cooperazione tra l'Alleanza e l'Unione, come conferma del principio di complementarietà con la Nato e del solido e indissolubile rapporto transatlantico, che vede nell'Alleanza Atlantica il pilastro della nostra sicurezza collettiva. In questa prospettiva va letto il nostro interesse al fianco Sud. L'Italia si sta adoperando attivamente per promuovere l'adattamento della Nato al fine di renderla più adeguata all'evoluzione dello scenario geopolitico e così in grado di affrontare le sfide provenienti da tutte le direzioni strategiche, incluso il Sud, come risulta evidente dal percorso che abbiamo già intrapreso per la revisione del concetto strategico. Al contempo l'Unione Europea non può sottrarsi alle responsabilità derivanti dal ruolo politico a cui aspira. La Presidente lo ha chiarito ineccepibilmente nel recente discorso sullo Stato dell'Unione. Il lavoro sulla bussola strategica, che concluderemo nei prossimi mesi, rappresenta quindi una grande opportunità per l'Europa e dovremo tenere alto il livello di ambizione, pur con un approccio realistico e concreto. Non dobbiamo tendere ad un raccordo a ribasso, ma anzi credo che sia essenziale fare in modo che il nostro lavoro condiviso abbia un chiaro orizzonte politico e una visione comune. Analisi delle minacce, un'agenda politica condivisa, costruzione di capacità comuni e volontà di utilizzarle come Unione sono gli elementi qualificanti di una vera difesa europea. Certamente in questa nostra riflessione comune non possiamo prescindere da una piena consapevolezza della valenza che il vicinato meridionale ha sia in termini di opportunità che di rischi per la sicurezza qualora signorassero le sfide che proprio da lì provengono. Minaccia terroristica, squilibri demografici, pressione migratoria, cambiamenti climatici e presenza di competitor globali. È proprio in questa Regione a mio avviso che l'Unione Europea può mettere in campo le sue specificità in termini di intervento che abbracci non solo la sfera di sicurezza, ma anche aspetti economici e sociali essenziali per una stabilità duratura. Da un punto di vista italiano, l'azione del Governo in termini di impiego delle nostre Forze Armate, come strumento di importante rilievo per la postura internazionale del Paese, rappresenta la volontà di un contributo concreto alla sicurezza euroatlantica. Un approccio che si sostanzia da un lato attraverso la condivisa necessità di supportare i nostri alleati lungo il fianco oest, contribuendo alle principali attività di terrenza e difesa, come l'Enhanced Forward Presence e l'Abouting Air Policing. Dall'altro, dall'esigenza di dare risposte concrete a Sud, nel Mediterraneo, in termini di stabilizzazione, capacity building, sicurezza marittima e consapevolezza della situazione strategica e tattica. Vi ringrazio per l'attenzione e sono certo che la discussione che seguirà offrirà spunti di interesse per i nostri obiettivi comuni. Buon lavoro.